È stata presentata nel corso della conferenza stampa a bordo di MSC Orchestra la Crociera della Canzone Napoletana, che partirà da Napoli il 20 ottobre prossimo. Una possibilità unica per far conoscere agli ospiti la tradizione della canzone partenopei, trascorrere una meravigliosa crociera di sette notti tra le più belle località della Tunisia, Isole Baleari, Spagna e Francia. La Crociera della Canzone Napoletana è un evento di particolare rilevanza culturale, presentato da Ciro Vespa, responsabile vendite sud Italia di MSC Crociere, da Carlo Possiglione, presidente dell'associazione Megaris, e da Francesco Spinosa, ideatore dell'evento. Presenti anche alcuni importanti giornalisti che hanno discusso della valorizzazione della canzone napoletana apprezzata in tutto il mondo. Ancora una volta MSC Crociere si impegna nel sostenere e affiancare iniziative di carattere culturale, proprio come la crociera della canzone napoletana, dichiarato Ciro Vespa, responsabile vendite sud Italia. A conferma dell'interesse per la città e il suo territorio, la compagnia è da sempre in prima fila nel promuovere le straordinarie risorse di questa regione.